Che succede? Dovete fare inversione, c'è un brutto incidente qui avanti. Possiamo essere d'aiuto? È un medico o qualcosa del genere? Qualcosa del genere. Bella bambola. Questo lo dice lei? Ha funzionato. Il male è contenuto. Non mi hai detto che fai la babysitter dei Warren stasera? Torniamo domani mattina presto. Divertitevi. I tuoi non tengono cose inquietanti in giro? Le tengono chiuse in una stanza. È meglio che non ci entri nessuno. Mio padre dice che gli oggetti che sono lì dentro sono... o infestati, o maledetti, o usati in qualche rito particolare. Che cos'è? Il traghettatore. Mettevano le monete sugli occhi dei morti perché trasportasse l'anima. E quella bambola chiusa lì dentro? Annabelle è nella vetrina per un motivo. Anabelle può venire a giocare. Annabelle è un richiamo per gli altri scheriti. Annabelle è un richiamo per gli altri scheriti. Annabelle! Signora Warren. Mamma! È tutto a posto? Sta succedendo qualcosa dentro cosa vostra e non sappiamo bene che fare. Posso parlare con Annabelle? Come scusi? Devi darle un'anima, mia cara. Lei vuole un'anima.